Benvenuti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare uno strumento davvero particolare che è stato creato specificatamente per Ubuntu e lo vedete qui il nome di questo strumento che è Ubuntu Accomplishments. Di cosa si tratta? Di uno strumento di gamification per Ubuntu. Allora, prima di tutto vediamo un attimino cos'è il gamification, cosa si intende per gamification e quindi poi si capirà anche a cosa serve questo programma, questo software, questa applicazione chiamata Ubuntu Accomplishments. Allora, cos'è il gamification? È un sistema volto ad incentivare la risoluzione dei problemi, nel nostro caso, quindi nel nostro ambito stiamo parlando di ovviamente Ubuntu, quindi problemi software del sistema. Incentivare in che senso? In questo senso, quindi trasformare la contribuzione, quindi lo sviluppatore di turno che contribuisce a risolvere un problema che esiste in Ubuntu, per esempio, sto parlando specificatamente di sviluppatori, ma vale anche per l'utilizzatore normale di Ubuntu, non solo per lo sviluppatore. Però diciamo che questo sistema di gamification, essendo nato specificatamente per contesti tecnici, come appunto lo sviluppo di software, la spiegazione è incentrata su questo, però vale, come vedremo fra un attimo, per chiunque usi il desktop Ubuntu. Quindi trasformare la contribuzione in un, tra virgolette, gioco è una tendenza di successo degli ultimi anni, di questi ultimi anni, per attrarre gli sviluppatori, quindi per incentivarli a contribuire a un determinato progetto, nel nostro caso Ubuntu. Ecco, quindi il gamification è questo, è un sistema che, come dire, introduce una nota giocosa di allegria nel lavoro di sviluppo e di ricerca dei bug e di soluzione dei bug, in modo da, appunto, da incentivare questo lavoro, a volte anche un po' ingrato degli sviluppatori, in modo da dare, appunto, una nota allegra e uno stimolo in più. Ecco, per maggiori dettagli sul termine gamification, vi lascerò in descrizione questo link, che è poi questa pagina che vedete di Wikipedia, di l'omnipresente Wikipedia, che vi spiega anche come è nato, quanti anni fa è nato questo gamification, perché è nato, cosa permette, qual è il suo obiettivo, eccetera, eccetera, gli ambiti di applicazione, le tecniche, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questa pagina ve la lascio, così potete approfondire per conto vostro, se vi incuriosisce ulteriormente questo termine gamification. Poi, passando più specificatamente ad Ubuntu, abbiamo una pagina del wiki di Ubuntu, che è poi questa qua, eccola qua, vedete, la pagina accomplishments, ed ecco qua perché il titolo, nel titolo ho messo Ubuntu accomplishments, perché questa è la pagina specifica del progetto di gamification per Ubuntu, nel quale appunto potete trovare, sotto varie sottopagine e sezioni, ogni tipo di informazione su come è strutturato il sistema di gamification per Ubuntu, cosa si intende con accomplishment, con, vedete qui, delle icone che sembrano delle coppe, dei trofei, in effetti si sta parlando di trofei, perché in Ubuntu, perché in Ubuntu il gamification è tradotto in guadagno di trofei a seconda della propria attività di supporto e contribuzione al progetto Ubuntu, in vari ambiti del progetto, e quindi vedete che ci sono appunto le icone che simboleggiano i trofei, quindi più partecipate ad Ubuntu, più guadagnate trofei, quindi ecco il succo del gamification, quindi il succo del gioco, tra parentesi, che ha a che fare con Ubuntu. Come si installa il programma che vi permette di visualizzare il vostro stato di gamification, come dire, il vostro stadio avanzato o meno di gamification, quindi i vostri trofei che avete guadagnato e quelli che non avete ancora guadagnato, magari ci tenete a volerli guadagnare e quindi ci vuole un programma per farvi il riassunto della vostra situazione. Ecco che per il momento, questo programma Ubuntu Accomplishments, quindi di realizzazione, ecco Accomplishments può essere tradotto diciamo in realizzazione, quindi voi avete raggiunto un certo traguardo, avete realizzato qualcosa e guadagnate il trofeo corrispondente. Ecco, per ora dicevo, questo Ubuntu Accomplishments si installa via un repository PPA dedicato, che è questo, ed è questo. Voilà, questo qua, quindi voi aggiungete come ormai credo sappiate il repository PPA al vostro sistema, aggiornate il sistema, installate Accomplishments e vi ritrovate appunto questo sistema di gamification per Ubuntu installato. Come si avvia? Quindi andiamo un po', mettiamo come vi stato, che ho dimenticato di farlo prima, quindi vi stiamo i punti che vi ho già spiegato, ecco si installa e poi ovviamente si può avviare questo programma. Come lo si avvia? Lo si avvia dalle applicazioni, si cerca Accomplishments, quindi basta scrivere anche solo poche lettere, vedete che è Ubuntu Accomplishments Viewer, quindi visualizzatore dei vostri traguardi raggiunti in Ubuntu, cioè della vostra realizzazione, delle vostre realizzazioni in Ubuntu sotto il profilo del gamification. Ecco, quindi si fa clic su questa icona e dopo un po' si apre il programma con i vari trofei, lo vedete qua, magari ingrandisco un po' la finestra, perché no? Ecco, così, ingrandiamo la finestra, voilà. Allora, occorre dire subito naturalmente che abbiamo parlato di gioco, tra virgolette, in effetti questo è un programma, il gamification, che in realtà non porta nessuna funzionalità particolare ad Ubuntu, cioè non aggiunge niente in quanto tale, aggiunge forse più per la persona che usa Ubuntu, più che per il sistema, più per il suo utilizzatore, ed è appunto più un gioco che non una vera funzionalità, che però, appunto, può dare una visione globale di come e quanto una persona contribuisce ad Ubuntu, e quindi può dare anche una certa soddisfazione, perché no? E anche curiosità immagino, probabilmente sarete curiosi anche voi di installare questo programma e vedere magari quanti trofei, senza nemmeno saperlo finora, avete già guadagnato usando Ubuntu, non so, magari un anno, sei mesi, un mese, che avete usato tre anni, che avete usato Ubuntu, e potete vedere con questo programma quanti trofei vi siete meritati, ecco, diciamo così. La traduzione italiana, questa è una piccola parentesi dovuta, doverosa per onestà, intellettuale, è ancora parziale, vedete che la maggior parte dei trofei portano un nome in inglese, perché se ne sono accumulati nel tempo, da quando è nato il progetto, e vedete però che alcuni sono in italiano, un po' qua, un po' là, sparsi a macchia di leopardo, vedete? Ecco, questo perché? Perché da quando è nato il progetto all'inizio si è già partiti anche con le traduzioni in italiano, però c'è molto da tradurre in questo progetto, perché ogni trofeo, come potete vedere, adesso ho fatto clic su un trofeo, senza volerlo, però va benissimo, quindi si clicca per avere il dettaglio di un trofeo, si clicca sul trofeo stesso e esce un dettaglio con le varie informazioni, cosa serve per raggiungere, per guadagnarsi questo trofeo, come realizzarlo appunto, questo trofeo, qui c'è scritto i vari passi, vedete che a dipendenza della complessità del trofeo possono esserci più o meno punti necessari, vedete, ecco, guardate questo quanto testo c'è, per spiegare cos'è questo trofeo ci sono bisogno di tre punti, punti da evitare, trucchi, suggerimenti per raggiungere questo trofeo, eccetera, eccetera, vedete che è anche complessa come traduzione, la traduzione di un programma come questo, quindi ce ne vorrà prima che l'italiano raggiunga la parità con l'inglese, credo. Ecco, però perché ho messo questo punto? Perché all'inizio, quando i trofei erano ancora pochi, ho trovato un po' di tempo per partecipare, ho partecipato anch'io alla traduzione, quindi se questa traduzione non vi soddisfa, in parte sono colpevole anch'io, ecco perché ho detto che per onestà intellettuale ve lo devo dire, quindi all'inizio, molto all'inizio, adesso è un pezzo che non ci metto più mano, un bel po' di tempo che non ci metto più mano, però sappiate che se trovate qualcosa in italiano che vi fa storcere il naso, in parte, assieme ad altri, ho colpo anch'io, chiedo già perdono per questo, comunque il tempo è passato e naturalmente l'inglese ha preso il sopravvento, i trofei sono diventati molti di più e la maggior parte sono per ora ancora in inglese, non so che stato siano altre lingue, ma per l'italiano siamo ancora lì. Ecco, altro particolare, quando voi avviate la prima volta questo programma, non mi ricordo più bene se presento una finestra o un wizard di partenza, francamente non lo ricordo più, però so che vi chiede di connettervi al vostro account della vostra nuvola personale su Ubuntu One, perché i trofei che avete guadagnato, i dettagli tecnici dei trofei che avete guadagnato, vengono salvate sulla vostra nuvola personale Ubuntu One. L'ho aperto qui e vedete c'è una cartella dedicata, in realtà i dati dei trofei vengono salvati sotto questa cartella, lo vedete qui, Local Share Accomplishments Trophies, quindi trofei, vengono poi suddivisi per trofei per il desktop o per la comunità, che poi vediamo fra un attimo le varie categorie, e vedete i vari trofei, i dettagli dei trofei vengono salvati quindi nella vostra nuvola personale. Quindi vi viene chiesto questo, perché se avete un account aperto su Ubuntu One, vi viene chiesto di poterli salvare lì. Poi, torniamo al nostro programma aperto, ci sono dei trofei che sono legati strettamente ad Ubuntu, altri che provengono da attività, diciamo che fiancheggiano Ubuntu, tipo il sito Ask Ubuntu, vedete tutti questi trofei col simbolino fumetto Ask, magari se zoom un attimo il desktop lo vedete meglio, vedete un trofeo qui con Ask, fanno parte dei trofei che si possono guadagnare, scusate, se si partecipa al sito di domande e risposte, di richieste d'aiuto e risposte a Ask Ubuntu, che è questo, vedete qui l'icona al fumetto, ecco, se voi siete iscritti, come il mio caso, ad Ask Ubuntu, potete impostare nel menu modifica identificazione, adesso ve lo mostro, modifica identificazione, ecco qua, potete mettere il vostro profilo di Ask Ubuntu in modo che il programma Ubuntu Accomplishments possa andare a verificare a che stato è il vostro account su Ask Ubuntu e di conseguenza giudicare e decidere quali trofei avete guadagnato e quali no. Ecco, un altro parametro che vi chiede per identificarvi è il vostro email, la vostra user di login su Launchpad, quindi qua sulla piattaforma che ho già presentato in un mio video precedente, potete andare a dire sul mio canale per la presentazione di Launchpad, che è la piattaforma collaborativa di sviluppo di Ubuntu e non solo e di vari progetti, quindi la vostra login, l'email che usate come login di Launchpad, serve anch'esso per determinare se avete diritto ad alcuni trofei o meno che hanno a che fare con la collaborazione su Launchpad. Ecco, quindi questi due parametri servono per ampliare la verifica di alcune categorie di trofei. Per alcune categorie di trofei. Ecco, se non mettete quei parametri, questi trofei con l'Ask o quelli legati a attività su Launchpad ovviamente non vengono, non possono essere verificati, non vi verranno mai assegnati. Ci sono per esempio trofei senza lucchettino e trofei con lucchettino, vedete quelli bloccati qui sopra, nell'interfaccia dei trofei disponibili c'è un checkbox che potete togliere e quindi non vi appaiono più i trofei con lucchettino, potete mettere il vistino qui e vi appaiono anche quelli con lucchettino. Un lucchettino vuol dire che questi trofei per poter essere assegnati devono prima essere sbloccati da altri trofei guadagnati. Vedete che c'è scritto qui, questa opportunità è bloccata, devi completare scavatore Ask Ubuntu prima. Quindi sono trofei che dipendono dall'aver già guadagnato altri trofei. Qua sopra per difetto vengono presentati tutti i trofei e a questo stadio del progetto i trofei in realtà sono suddivisi in trofei creati dalla comunità di Ubuntu, quindi idee che vengono dalla comunità di Ubuntu e trofei del desktop, quindi che sono legati a programmi installati sul vostro PC. Anche banalmente un gioco, vedo qui per esempio il gioco Mahjong, quello delle piccole tessere tipo quelle del domino che dovete togliere quando sono impilate, il gioco lì asiatico, avete in presente sicuramente il gioco Mahjong. Vedete che ci sono vari trofei per questo gioco, se avete completato tutti i livelli vi guadagnate questo trofeo. Uno, dovete avere installato il gioco, due, dovete giocarci per guadagnare questi trofei. Quindi vedete che questo programma di gamification di Ubuntu va anche a indagare sul vostro PC localmente per alcuni programmi se li avete usati e a che livello li avete usati. Ecco, vedete? e quindi appunto si suddividono questi trofei per tipologia, quindi desktop, quindi programmi che usate o comunitari della comunità, quindi contribuiti dalla comunità oppure proprio creati dal progetto Ubuntu accomplishments per vari settori come appunto Ask Ubuntu, come editor di Fridge che è il blog ufficiale di Ubuntu delle newsletter, vediamo un po' benefattore di Ask Ubuntu, contributore dell'accomplishment stesso, quindi creatore di trofei, ulteriori trofei, se avete partecipato a un developer summit di Ubuntu, quelli che avvengono ogni sei mesi dopo il rilascio della versione di Ubuntu, sapete che gli sviluppatori si ritrovano per discutere sulla prossima versione di Ubuntu, ecco questo trofeo ve lo guadagnate se avete partecipato almeno a uno di questi eventi, eccetera eccetera. Ecco, avete capito che il gamification è in realtà un gioco che non porta nulla al sistema operativo, ma porta più a voi, una soddisfazione personale, quasi una cosa psicologica che vi permette di vedere quanto avete contribuito ad Ubuntu e magari vi stimola a guadagnare altri trofei e quindi a partecipare di più alla comunità di Ubuntu. Ecco proprio lo scopo di questo sistema di gamification. Appunto, come vi ho mostrato adesso e come ho scritto qua, i trofei sono suddivisi per varie tipologie o livelli, quindi se partecipate addirittura all'organizzazione di Canonica all'Ubuntu, per il desktop, vi ho appena mostrato prima i trofei dedicati al gioco Mahjong e anche creati dalla comunità, quindi potete contribuire anche voi sul sito Viki, sulla pagina Viki, c'è scritto anche come si crea un trofeo, vedete, create an accomplishment, quindi qui c'è scritto cosa dovete fare se avete una bella idea per creare un nuovo trofeo o se volete legare un trofeo ad un programma che si può installare sul vostro sistema e che non ha ancora trofei, potete crearlo voi, contribuire voi anche. Ecco, vediamo se ho tralasciato qualcosa. No, ecco, questo è ancora una nota, quindi il progetto naturalmente è in sviluppo ancora, è in evoluzione, non è che finito qui, ma fra gli obiettivi dichiarati ci sono anche quelli di integrare poi con i social network i vostri trofei, in modo che voi possiate condividere, che so, su Twitter, Facebook, Google+, quello che volete voi, condividere se avete piacere di farlo, un vostro trofeo che avete guadagnato ed essere orgogliosi di averlo guadagnato e quindi condividerlo sui social network, perché no? Eppure anche è previsto un sito web sul quale pubblicare i propri trofei, cioè i trofei in realtà sono già salvati su Ubuntu One, come vi ho fatto vedere qui, sulla vostra nuvola personale, quindi sul web ci sono, però poi spetta a voi condividere o meno queste informazioni, anche se qui sono solo dei file che dicono poco. In realtà è previsto, è previsto, scusate, è previsto anche la creazione di una pagina web dedicata sulla quale, se volete, connettendovi, accedendo penso con la vostra user e password di, non so, di launchpad per dire, potete visualizzare i trofei anche sul web e non solo localmente con questo programma, praticamente quella parte web sarà poi una replica di questa interfaccia che vedete in questo programma locale sul vostro PC per mostrare i vostri trofei anche quando non siete presenti davanti al vostro PC. Ecco. Infine, ultima nota, per chi lo desidera c'è anche una lens dedicata da mettere nella dash, io non l'ho installata, però se installate anche quella dal repository PPA, vi ritrovate qui sotto una lens, credo con un'icona a forma di trofeo, non vorrei sbagliarmi, ma io non l'ho installata perché non la ritengo utile di averla, comunque potete aggiungere qui sotto una lens dedicata ai vostri trofei. Ecco, quindi vi ho spiegato tutto, cos'è il gamification, a cosa serve, il suo scopo quindi stimolare, incentivare il vostro contributo al progetto Ubuntu, a tutto l'universo Ubuntu, attraverso questo guadagno di trofei che dovrebbe, un po' come un gioco, stimolarvi a partecipare, quindi a guadagnare sempre più trofei per essere orgogliosi del vostro lavoro. Io vi ho mostrato qualche caratteristica del programma, come si installa, come si avvia, come si imposta, come si presenta. L'ultima cosa, prima di chiudere questo video, evidentemente, è mostrarvi i miei trofei a questo punto, perché questo è il catalogo completo dei trofei disponibili allo stato corrente, quindi 20 dicembre, questi sono tutti i trofei disponibili, o proprio tutti no, ecco, adesso tutti i trofei disponibili, e qui però c'è un pulsante miei trofei. Ecco, miei trofei vuol dire da tutto questo catalogo quali io ad oggi ho già guadagnato, mi sono già meritato, ed eccoli qua, per esempio nel mio caso c'è un pulsante, vedete, tutto o più recente, quindi suddiviso temporalmente di quando sono stati guadagnati. Questo mese mi sono guadagnato un Added Photos, che non perché ho archiviato delle fotografie sul mio computer, probabilmente è legato a Shotwell, il programma di gestione delle foto, quindi questo è vero, nell'ultimo mese ho creato nuove fotografie e me le sono gestite nella mia libreria, nel mio visualizzatore Shotwell di fotografie, ed ecco che è apparso il mio trofeo, mi sono guadagnato un trofeo perché ho aggiunto delle foto al mio computer. Così come di recente, pochi giorni fa, mi sono creato un documento con LibreOffice, naturalmente io posso averne creati anche 10.000 di documenti di LibreOffice, il trofeo vi viene assegnato se ne avete creato almeno uno. Ecco, vedete, poi negli ultimi sei mesi ho aggiunto musica, ho cambiato almeno una volta il wallpaper, cioè lo sfondo, praticamente questo qua, lo sfondo del desktop, vedete che è proprio anche molto specifico questo sistema di gamification per Ubuntu e più arrivano dalla comunità i contributi di nuovi trofei, più sarà specifico. Sulla carta potrebbe esserci almeno un trofeo per ogni programma che potreste installare sul vostro PC dall'Ubuntu Software Center, quindi più si amplia, più sarà specifico, più ci saranno trofei da guadagnare. E anche attività tipo appunto, cambiare il wallpaper è, sì, una parte del sistema operativo, non è un vero programma che voi installate, vi trovate già come funzionalità in Unity questa possibilità, però ecco che c'è un trofeo specifico e questo programma intercetta questa cosa, quindi capisce dal sistema che voi avete cambiato lo sfondo del vostro desktop e voilà, avete guadagnato il trofeo. Naturalmente non sono tutti così facili da guadagnare i trofei, ecco come vi ho detto prima ci sono anche quelli con il lucchettino che implicano anche delle attività nella comunità di Ubuntu, nel loco team, proprio anche nella gerarchia del progetto di Ubuntu, come si dice, responsabili della comunità o di un blog come editore, ecco ci sono anche trofei naturalmente decisamente più impegnativi da guadagnare, ecco i miei trofei sono mediamente facili, sono quelli che si guadagnano gratuitamente quasi semplicemente usando il PC, poche eccezioni tipo questi di Ask Ubuntu perché effettivamente ho contribuito anch'io a qualche risposta o a fare qualche domanda sul sito Ask Ubuntu, questo qua, avendo veramente risposto e anche fatto domande mi sono guadagnato i trofei, quindi ho fatto veramente qualcosa, ecco. Poi ho usato Guiber per Facebook, ho usato Guiber con Twitter, ho fatto delle domande popolari su Ask Ubuntu, ho usato Rhythm and Boss per ascoltare la musica, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che ho firmato il codice di condotta di Ubuntu, ecco questo è il codice dell'Umbuntero che se firmate questo codice implica che dovete tenere un certo comportamento con gli altri nella comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che io ho un certo discreto numero di trofei, adesso qui non c'è un totale scritto, però non stiamo qui a contarvi per non allungare il video, per niente, comunque vedete che anch'io come semplice utilizzatore o poco più mi sono già guadagnato una bella palettina di trofei e voilà, questo è il gamification. Ho trovato simpatico presentarvelo, magari non tutti conoscono che esiste questo sistema, sappiate che per Ubuntu c'è Ubuntu Accomplishments che è il sistema di gamification dedicato alla nostra distribuzione Linux preferita. E con questo ho concluso, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, spero come sempre che questo video vi sia interessato e vi abbia fatto piacere, vi abbia incuriosito, un saluto, alla prossima, ciao ciao!